Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla diramazione Luca-Viareggio, quindi tra la 11 e la 12, dove ci sono 6 km di coda per il traffico intenso tra Massarosa e Viareggio, in direzione Viareggio. In A12, in direzione sud, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara e poi code alla barriera di Rosignano. In direzione nord, rallentamenti tra Pisa Nord e l'allacciamento con la 15. In A15, 4 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma, 1 km di coda tra Ulla e l'allacciamento con la 12 verso la Spezia. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze e Scandici e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra il Bivio con la variante di Valico-Bacchera e Aglio, siamo sulla direttissima. Ed è tutto, buon viaggio!